buongiorno e ben ritrovati dal vostro nicola e lucia nella deluxe television allora parliamo nel caso specifico vado a commentare quello che è la mia opinione sul film l'ultimo film di odio giovanni e giacomo odio l'estate film sicuramente mi è piaciuto anche in virtù del fatto che sono tra i miei attori preferiti attori e comici preferiti quando ho rivisto la scena che tutti e tre giocano a calcio sulla sabbia insomma mi ha ritornato in mente il film tra uomini e una gamba insomma quindi secondo me è film da vedere sicuramente da vedere per chi è amante di questo trio però per chi vuole farsi due risate o anche una storia bella perché è stata una storia simpatica quella del film odio l'estate è apprezzabile e quindi cioè già il fatto che tutte e tre ricavano nella stessa casa e dichiarano tutte e tre di esserli affettuari poi diciamo tutti loro le varie coppie che praticamente passano l'estate assieme quindi bello veramente bello spero vivamente sicuro odio giovanni e giacomo è un trio che non promuove film diciamo ogni anno però diciamo che per quello non c'è un obbligo nel senso che laddove viene viene usciata una sceneggiatura un film si fa è ovvio che se non ci sono le credenziali giuste un attore non va in scena quindi c'è nel senso se non c'è il bisogno per esempio quest'anno nel 2020 di girare un film per aldo giovanni e giacomo non lo fanno quindi e io sono contento così comunque anche fa per esempio che con zalo come è stato per il suo tolo tolo vabbè diciamo il film di che qua ha diviso abbastanza la critica tra i pro e con comunque ho detto per chi ama questo trio vedete il film odio l'estate e anche per chi non è proprio un appassionato di aldo giovanni e giacomo si fa due risate bello bello